Il marchio è il più efficace biglietto da visita per chi entra nel mondo del commercio con l'intenzione di restarci, farsi riconoscere e ricordare, di fare la differenza in sostanza. Il marchio è il nome o l'immagine al quale il pubblico associa la tua attività commerciale Per garantirne un buon riconoscimento è fondamentale che sia coordinato col dominio del sito aziendale o con l'account che la tua attività presenta sui social media. Nel caso in cui tu venda uno o più prodotti di tua produzione, il marchio può riferirsi al prodotto di punta quello che intendi promuovere con particolare enfasi e attenzione il prodotto insomma in cui credi di più e vorresti imporre sul mercato tutelandolo fin da subito dalla contrappazione. L'importante è che nome e immagine del marchio siano di fantasia quanto più le parole e le figure sono lontane dai prodotti che si mettono in commercio tanto più il marchio è forte, efficace e riconoscibile. Ovviamente il marchio deve essere nuovo e non deve assomigliare a quello altrui Nessuno vuole essere confuso con altri, no? Un marchio vale 10 anni e può essere rinnovato di 10 anni in 10 anni all'infinito ha una specifica territorialità, nazionale innanzitutto che può essere estesa all'Unione Europea o in altri paesi quando e se l'attività commerciale vada a comprendere anche mercati stranieri. Questo avviene nel tempo, ad esempio quando si opera anche con l'e-commerce. Registrare un marchio costa sicuramente meno di quanto pensi Bisogna però ricordare che oltre a una cifra iniziale di circa 100 euro per la registrazione della domanda dovrai versare una cifra aggiuntiva per ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima. Ad esempio, se il tuo marchio copre un'attività di ristorazione in loco e una di vendita degli stessi piatti proposti via web dovrai registrare due classi di servizi. Per tutelare in maniera corretta la tua attività commerciale con un marchio efficace chiedi consulenza gratuita al nostro sportello tutela proprietà industriale e costruisci con professionisti dedicati la strategia di deposito da portare avanti. Verifica che il marchio sia nuovo rivolgendoti al nostro centro Patlib per una ricerca ad hoc gratuita Registra il marchio presso il servizio proprietà industriale della Camera di Commercio di Torino Con gli incontri di Mettici il Marchio ti aiuteremo a compilare la pratica di deposito Ti aspettiamo!